Sì, oggi vediamo insieme questo esercizio di matematica 2. In particolar modo viene assegnata la curva r di t uguale logaritmo di t meno 1 radice di t 3 più t e viene chiesto di determinare se il punto P0 di avente coordinate 0 radica al 2, 5 appartiene alla curva. Poi viene chiesto di scrivere il vettore e il versore tangenti alla curva in P0. Dopodiché dobbiamo verificare che il vettore tangente sia ortogonale al vettore 0, 2 radica al 2, meno 1. Vediamo come si risolve l'esercizio. Allora, risolviamo quindi il primo punto. Dobbiamo vedere se il punto P0 appartiene alla curva. Quindi cosa deve succedere? Deve succedere che esiste un valore di t per il quale le tre componenti della curva assumono il valore delle tre componenti del punto P0. Ossia deve esistere un valore di t per il quale il logaritmo di t meno 1 è uguale a 0, la radice di t deve essere uguale alla radice di 2 e 3 più t deve essere uguale a 5. A questo punto possiamo risolvere una qualsiasi di queste tre equazioni ottenendo un valore di t. Ad esempio, io scelgo di risolvere l'ultima, quindi 3 più t uguale a 5, il 3 passa dall'altra parte e diventa negativo, quindi t uguale a 5 meno 3 che fa 2. Una volta che ho ottenuto il valore di t uguale a 2, lo sostituisco nelle due equazioni precedenti. e vedo che sostituendolo nella seconda ottengo radical 2 uguale a radical 2, che è un'uguaglianza e chiaramente questa relazione è vera. Sostituisco nella prima equazione e ottengo logaritmo di 2 meno 1 uguale a 0. Ora, 2 meno 1 è uguale a 1, il logaritmo di 1 è uguale a 0, e quindi anche in questo caso otteniamo che l'uguaglianza è verificata. Poiché il sistema è stato soddisfatto dal valore t uguale a 2, possiamo concludere che il punto P0 appartiene alla nostra curva. In particolar modo, il punto P0 lo si ottiene per il valore di t uguale a 2. A questo punto dobbiamo scrivere il vettore e il versore tangenti alla curva in P0. Allora, il vettore tangente è dato semplicemente dal vettore derivata, ossia andiamo a derivare le singole componenti della curva. Quindi la derivata del logaritmo di t meno 1 è 1 fratto t meno 1, perché la derivata del logaritmo è 1 fratto il suo argomento, per la derivata dell'argomento che è 1. Poi, la derivata di radice di t è 1 fratto 2 radice di t, la derivata di 3 più t, la derivata di 3 è 0, la derivata di t è 1. Dunque, svolgendo i calcoli, otteniamo semplicemente che r' di t, ossia il vettore tangente, è 1 fratto t meno 1, 1 fratto 2 radice di t, è 1. Calcoliamo ora il versore tangente. Per calcolare il versore tangente, basta semplicemente andare a normalizzare il vettore tangente, ossia dobbiamo prendere questo vettore e dobbiamo dividerlo per la sua lunghezza. Quindi dobbiamo calcolare r' di t fratto la norma di r' di t. Attenzione però che il testo chiede di scrivere il versore tangente nel punto, il versore e anche il vettore tangente, nel punto P0. Allora, calcoliamo quindi da prima r' di t in P0, dopodiché anche il versore tangente in P0. Notate ora una cosa, che chiaramente vettore e versore tangenti sono funzioni della t, quindi per calcolarli in P0 dobbiamo in realtà sostituire il valore di t che abbiamo trovato al punto precedente, ossia quel t uguale 2. Per fare un'analogia con un aspetto un po' più pratico, possiamo immaginare che ci sia un punto materiale che si muove secondo la legge oraria r di t. quindi la curva descrive la traiettoria, il sostegno di questa curva rappresenta la traiettoria descritta dal punto materiale lungo il suo moto. Ora, questo punto materiale si troverà nella posizione P0 al tempo t uguale 2. Adesso, poiché vogliamo calcolare il vettore tangente in P0, dobbiamo, cioè questa richiesta è equivalente a calcolare il vettore tangente nell'istante in cui il punto materiale si trova appunto in P0. Ricordo che il vettore tangente rappresenta la velocità di questo punto materiale, quindi questa richiesta equivale a dire calcola il vettore velocità del punto materiale nel momento in cui si trova nel punto 0 radical 2,5 e si troverà nel punto R0 radical 2,5 all'istante t uguale 2. Quindi, prendo il valore t uguale 2 e lo sostituisco al posto di t in R', quindi ottengo 1 fratto 2 meno 1, 1 fratto 2 radice di 2, 1. Adesso calcoliamo la norma di questo vettore. Come si calcola la norma di un vettore? Come la radice quadrata della somma del quadrato di tutti i componenti, quindi la radice quadrata di 1 al quadrato è 1 più 1 fratto 2 radica al 2 al quadrato più 1 al quadrato che è 1. Quindi otteniamo 1, 1 al quadrato è 1, 2 al quadrato è 4, radice di 2 al quadrato è 2 perché si leva la radice, quindi qui al denominatore abbiamo 4 per 2 che fa 8 più 1. Minimo comune multiplo 8, quindi otteniamo 8 più 1 più 8 tutto diviso 8. quindi radice di 17 ottavi. A questo punto possiamo calcolare il versore tangente nel punto che si ha per t uguale 2, quindi prendiamo il nostro vettore R' di 2 e lo dividiamo per la sua lunghezza, ossia per la norma. Dobbiamo svolgere questi calcoli, quindi abbiamo una frazione di frazione, prendo il denominatore e lo faccio in reciproco e quindi moltiplico. Abbiamo quindi radice di 8 diciassettesimi per 1, 1 fratto 2 radica al 2 è 1. Radice di 8, altri non è che 2 radica al 2 perché la radice di 8 è 4 per 2, ma la radice di 4 è 2, radice di 2 resta scritto come radice di 2. Svolgendo i calcoli si ha 2 radica al 2 fratto radice di 17, 2 radica al 2 per 1 fratto radica al 2 se ne vanno, quindi rimane solo 1 fratto radice di 17, e poi 2 radica al 2 fratto radice di 17 per 1. L'ultimo punto che resta da risolvere è la verifica che il vettore tangente sia ortogonale al vettore 0, 2 radica al 2, meno 1. Quindi il vettore tangente, e qui forse nel testo non so se sia chiaro, ma chiaramente si riferisce al vettore tangente che abbiamo trovato al punto precedente, quindi parliamo del vettore tangente in P0, questo che abbiamo determinato qui. In poche parole dobbiamo verificare che il vettore 1, 1 fratto 2 radica al 2, 1 sia ortogonale al vettore 0, 2 radica al 2, meno 1. Come facciamo a capire se questi due vettori sono ortogonali? Basta calcolare il prodotto scalare di questi due vettori e verificare che esca uguale a 0, perché il prodotto scalare di due vettori perpendicolari è nullo. Il prodotto scalare come si calcola? Si fa il primo termine del primo vettore per il primo termine del secondo, il secondo per il secondo, il terzo per il terzo. Quindi 1 per 0 è 0, 1 fratto 2 radica al 2 per 2 radica al 2. Si semplificano e quindi fa 1, e poi 1 meno 1, 1 per meno 1 fa meno 1. Svolgendo i calcoli, quindi ciò che resta è 1 meno 1, che fa 0, poiché il prodotto scalare è nullo, possiamo concludere che due vettori sono perpendicolari. Allora, spero che questo esercizio vi sia utile. Per qualsiasi dubbio non esitate a scrivermi. Va bene? Ciao ragazzi! Ciao ragazzi! Ciao ragazzi! Grazie.